Musica Bentrovati alla terza edizione del TG6 alla presenza delle più alte cariche dello Stato primo tra tutti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sono stati celebrati questa mattina ad Ascoli Piceno i funerali delle vittime marchigiane del sisma di mercoledì scorso Mattarella ha anche visitato i centri colpiti dal sisma e ha assicurato la vicinanza delle istituzioni italiane alle popolazioni terremotate Una lunga fila di carri funebri parcheggiati ai margini della strada lungo la via che conduce alla palestra comunale tanta gente in attesa dietro le transenne un cordone di boy scout controlla che nella struttura entrino solo i parenti delle vittime l'attesa sui volti dei presenti Grazie a tutti Dopo un'altra notte di scosse, la cui intensità si va però sempre più riducendo rispetto ai giorni scorsi, è il giorno dei primi funerali di Stato. Nella palestra di Ascoli Piceno, dove si stanno per celebrare i funerali delle vittime del terremoto, è presente anche la Presidente della Camera, Laura Boldrini. Il Premier Matteo Renzi è seduto accanto alla moglie e al Presidente del Senato, Pietro Grasso. Tra le autorità che partecipano alla cerimonia, anche il Vice Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. Alle 11.20, l'arrivo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. I familiari sono seduti accanto alle bare dei loro cari, piangono, qualcuno accusa un lieve mancamento. Uno per uno, poi, sono stati scanditi i nomi delle 35 vittime, numerose le autorità anche regionali e locali presenti. «E adesso, Signore, che si fa? Lo ha detto nell'Omelia ai funerali il Vescovo Giovanni D'Ercole. A nome mio, nel nome di questa nostra gente tradita dal ballo, il distruttore della terra, e adesso che si fa? Mi sono rivolto a Dio Padre, suscitato dall'angoscia, dall'avvilimento di esseri umani derubati dall'ultima loro speranza». «Ciao piccola, scusa se siamo arrivati tardi, purtroppo avevi già smesso di respirare, ma voglio che tu sappia da lassù che abbiamo fatto tutto il possibile per tirarvi fuori da lì. Ciao Giulia, anche se non mi hai mai conosciuto, ti voglio bene, Andrea». E il testo commovente che un vigile del fuoco ha lasciato sulla bara della piccola Giulia, la bimba, morta per proteggere la sorellina Giorgia. «Andrea non si è perdonato di non essere riuscito a salvarla e ha chiesto scusa. Quando tornerò a casa mia, l'Aquila, scrive ancora, saprò che c'è un angelo che mi guarda dal cielo e di notte sarai una stella luminosa». Il presidente della Repubblica, Mattarella, a conclusione dei funerali, ha abbracciato e confortato i familiari delle vittime. Si è trattenuto oltre mezz'ora all'interno della palestra, si è fermato a parlare con molti di loro, anziani, giovani, persone che hanno riportato ferite durante il sisma. «Uscito dall'edificio, ha stretto la mano a tutti i sindaci dei bordi colpiti, riuniti con la fascia tricolore. Abbiamo pianto e sofferto insieme, ma ora è il momento della speranza. Così, il vescovo, Monsignor Giovanni D'Ercole». «Cercherò qui di evitare gli errori che sono stati fatti nell'Aquilano perché possiamo ricostruire quanto prima il tessuto umano innanzitutto, prima di ricostruire le case il tessuto umano. E mi sembra questa la cosa prioritaria. Più si costruisce in fretta il tessuto umano, più sarà semplice, più sarà facile ricostruire anche la città, le mura. Le mura si fa presto, bisogna prima ricostruire i cuori. È arrivato il momento che queste cose non accadano più e dobbiamo avere il coraggio di partire con opera di prevenzione in questo Paese. Ve lo dico in questo momento che per me è di dolore enorme, perché mentre scorrevano quei nomi, molti sono i nomi che ogni sera del 6 aprile all'Aquila, noi leggiamo che sono 309, lo dobbiamo acquisti, mai più queste cose. Partiamo con quest'opera di prevenzione. Noi siamo in Italia e stiamo scavando e voi mostrate le stesse immagini di come si è scavato in Tibet a 5 miliometri di altezza. Cominciare a fare questo discorso, io credo che dobbiamo a queste morte e soprattutto al dolore enorme che crescerà sempre più nei parenti di questi caduti, perché il dolore che hanno oggi è ancora un dolore che li sconvolge. In questo momento ancora non prendono le distanze. Guardate, nei prossimi mesi, nei prossimi anni, è un dolore che non solo rimarrà in loro, ma soprattutto è un dolore che coinvolgerà l'intera comunità, come sta succedendo da noi. Ditemi cosa è meglio per voi, non possiamo decidere tutto noi da Roma, così il Premier Matteo Renzi, parlando con alcuni terremotati al termine dei funerali delle vittime. Dovete essere voi a dirci se volete rimanere nei vostri territori, cosa è importante per voi. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha poi lasciato la palestra di Ascoli e accompagnato dal Presidente della Regione Marche e dal Sindaco di Arquata del Tronto, si è recato nell'ospedale Mazzoni, dove sono ricoverati oltre 50 feriti. Una bambola è il regalo del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, alla piccola Giorgia salvata dalle macerie, che oggi compie 4 anni. Giorgia, 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 Giorgia. E l'architetto del Comune di L'Aquila, Vincenzo Magnifico, è stato tra i primi ad accorrere ad Amatrice dopo il terremoto, nelle sue parole e tutta la drammaticità del sisma. Ai microfoni di Giorgio Alessandri. Gli occhi più che le parole non tradiscono mai e lo sguardo di chi ha visto da vicino l'orrore per la seconda volta dopo il 6 aprile 2009 lo riconosce immediatamente. Vincenzo Magnifico, architetto del Comune dell'Aquila, è stato tra i primi ad arrivare ad Amatrice e a poche ore dal terremoto. Questo è il suo racconto di quelle ore drammatiche. La situazione appena siamo arrivati verso le 5 e mezza era drammatica. Abbiamo subito capito che c'era molto da fare. Stavano iniziando ad allestire il centro operativo comunale, lì ad Amatrice, nel centro, e subito ci siamo coordinati con una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che già era presente sul posto e con la protezione civile nazionale che stava allestendo i campi. Noi col personale tecnico e quell'operaio del Comune abbiamo dato, e stiamo ancora dando oggi, tutta la nostra disponibilità e il nostro supporto anche all'operazione di scavo e di recupero delle persone che sono ancora sotto le macerie. La situazione è abbastanza drammatica. Penso che siamo ai livelli dell'Aquila, se non più alti. E ha fatto rientro ieri una delle squadre della misericordia di Pescara inviate per il sisma del centro Italia, il punto della situazione sull'immediato post-terremoto con il governatore Berardino Fiorilli. Andrea Costantini. Berardino Fiorilli, la misericordia è sempre attiva in questi giorni per il sisma del centro Italia. Intanto qual è il punto della situazione? Dal punto di vista dei soccorsi si è stabilizzata la situazione in quanto abbiamo per fortuna una grande quantità di volontari e professionisti presenti sui posti del sisma. Noi ieri abbiamo fatto rientrare la nostra seconda squadra intervenuta prontamente, siamo in attesa di disposizione da parte dell'UGEM che è l'ufficio gestione emergenza di massa delle misericordie e abbiamo concluso la raccolta di viveri che, ripetiamo, è stata sospesa dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile in quanto per ora non c'è più necessità. Tutti i beni raccolti sono stati inventariati, trasmessi via mail ai campi e man mano saranno consegnati a seconda delle esigenze. Proprio perché oggi portare troppa roba in maniera scomposta significherebbe comunque appesantire la situazione e non essere d'aiuto. Quali saranno i prossimi passaggi? Cosa state aspettando in particolare? Quali potranno essere i prossimi scenari? Gli scenari saranno quelli, speriamo, soltanto della gestione ordinaria dei campi, almeno che ci siano altre scosse, ma questo ci auguriamo che non accada. La gestione ordinaria del campo sarà una situazione che durerà a lungo e quindi oggi c'è l'enfasi emotiva di dare una mano. Nei prossimi mesi sarà necessario farlo continuamente e quindi noi siamo pronti a essere d'aiuto laddove ci sarà richiesto e nel modo in cui ci sarà richiesto. Quindi un'emergenza a lunga scadenza diventa una cosiddetta emergenza ordinaria, tra virgolette, a cui dovremo far fronte nei prossimi mesi che credo saranno lunghi, anche tenendo conto che ci sarà la stagione invernale. Per chiudere, in questi giorni, gli uomini impegnati della misericordia, cosa vi hanno riportato? Qual è stato il momento più difficile o le fasi più difficili? Guardi, ho avuto le impressioni della prima squadra che ho inviato a pochissime ore, sono stati tra i primi quasi in assoluto ad arrivare sui luoghi. Parliamo di soccorritori esperti che hanno fatto già altre esperienze, non ultima quella dell'Aquila e devo dire che sono tornati sconvolti. Parlo di persone purtroppo abituate a certe situazioni, quindi evidentemente nei loro occhi c'era tutto il dolore di una situazione drammatica vissuta sul posto. Credo che pochissime parole di racconto, ma molti sguardi e molte situazioni ci hanno raccontato e espresso molto più di quello che si potrebbe dire a parole. Comunque è una situazione davvero drammatica. E all'Aquila, subito dopo il sisma del centro Italia, sono scattate le verifiche sulla staticità degli edifici pubblici. Dalle verifiche non sono emerse problematiche di sorta. Vediamo. Il centro dell'Aquila e gli edifici pubblici sono sicuri. A poche ore dal terremoto che ha colpito Amatrice ed altri centri umbri e marchigiani, sono scattati controlli e verifiche da parte dei tecnici del Comune dell'Aquila che hanno constatato la sicurezza di uffici e strutture pubbliche come Tribunale d'Exompi e delle scuole. Nessun rischio per dipendenti, utenti e studenti che nei prossimi giorni torneranno sui banchi di scuola. Sì, le verifiche sono iniziate subito. Intorno alle 6 e meno 10 il centro storico è stato già visitato una prima volta e successivamente intorno alle 6 e mezzo veniva dichiarato uno stato di sicurezza sostanziale del centro storico. Queste verifiche sono state coordinate dal Direttore del Dipartimento, Ingegner Fabrizi. In seguito ci si è dedicati essenzialmente a valutare la situazione strutturale dei principali edifici pubblici che sarebbero stati aperti al pubblico, quindi le sedi comunali, il Tribunale, l'Exompi. Si è riscontrata una sostanziale agibilità di tutti gli ambienti, non ci sono danni strutturali di nessun tipo, piccolissime lesioni non strutturali dovute a dislocamenti giunti sismici o spostamenti di tamponature, ma insomma niente di rilevante. Assolutamente, in seguito le squadre coordinate dal COC sono state mandate nei principali edifici scolastici, quelli che più potevano essere soggetti a qualsiasi forma di spostamento o danno. Anche in edifici scolastici non si è riscontrato nessun tipo di problema strutturale. E a vasto, dopo tre giorni di ricerche, è stato ritrovato il corpo di Marco Basilavecchia, scomparso mercoledì nelle acque antistanti, la spiaggia di Punta a Derci. Il ragazzo era arrivato da Penne assieme ad altri amici per una giornata di vacanza finita in tragedia. Assieme a lui è morto anche Marco Ricitelli, anche lui travolto dalla forza della corrente marina. Alfredo Primante. Per ritrovare il corpo senza vita di Claudio Basilavecchia, 24 anni, di Penne, morto mercoledì nello specchio d'acqua antistante, la spiaggia di Punta a Derci a Vasto, ci sono voluti tre giorni ininterrotti di ricerche da parte dei vigili del fuoco e della guardia costiera che hanno sfidato un mare forza 4 mettendo a rischio la propria vita. I sub dei vigili del fuoco di Roseto degli Abruzio hanno recuperato il ragazzo poco dopo le 18 di ieri, quando ormai le speranze di trovarlo in vita erano svanite. Claudio Basilavecchia è la seconda vittima di una giornata di vacanze al mare finita in tragedia per un gruppo di amici, tutti pennesi. Assieme a Claudio, infatti, è stato portato via dalla forza della corrente marina Marco Ricitelli, 29 anni. Invece salvi per miracolo, aggrappati ai pali del trabocco, altri due ragazzi della comitiva, tra cui il fratello di Marco Ricitelli, oltre ad un turista di Lecco. Il riconoscimento del corpo di Marco Basilavecchia è stato effettuato dallo zio del ragazzo dopo che la famiglia aveva seguito da vicino le operazioni di soccorso. Grande lo spiegamento di forze per le ricerche estese fino in Molise a Termoli, impegnati oltre 30 uomini, un aereo Manta specializzato in questo tipo di operazioni, un elicottero dirottato dalle zone terremotate e alcune motovedette della Guardia Costiera. In più, a Punta Derci, sono arrivati anche i sommozzatori da Napoli e i sub del Vigili del Fuoco di Roseto degli Abruzzi, che hanno poi effettuato il recupero del corpo. Cambiamo argomento sulla vicenda della ruota panoramica a Pescara. È intervenuto Samani il gruppo di Pescara Mi Piace. Ascoltiamolo nell'intervista di Andrea Costantini. Questa è la ruota panoramica che oramai da settimane è possibile vedere a Pescara, ma è una ruota inattiva, lo è praticamente da quando è stata realizzata e il comune di Pescara non riesce ancora a sbloccare l'attivazione di questa ruota perché i passaggi burocratici che andavano fatti non sono stati effettuati. Oggi l'associazione e il gruppo di Pescara Mi Piace torna a denunciare questo stato delle cose. Sì, siamo sotto il simbolo dell'incapacità amministrativa della giunta che amministra Pescara targata a Alessandrini. Tre volte la scia è stata presentata, tre volte rigettata, con tante prescrizioni che secondo noi non sono state tutte ottemperate. Manca ancora, per quanto ci risulta, una certificazione relativa all'impiantistica elettrica. Non so se questa certificazione sia arrivata questa notte perché l'assessore continua a dire che questa mattina il dirigente firmerà la scia che è la certificazione di inizio di attività. Comunque il fatto è che la ruota è stata montata in barba a tutte le leggi, non c'è una sola legge, un articolo di legge che è stato rispettato perché prima si presenta la documentazione e poi si può iniziare la costruzione. L'assessore mente, sapendo di mentire, un'opera che è stata realizzata in forma abusiva, ma tra l'altro c'è una novità. L'Agenzia delle Dogane, per quanto di competenza, avvisa il Comune, quindi il Comune ha avvisato la ditta che ha realizzato questa opera, che in data 28-7 l'Agenzia delle Dogane informa che la realizzazione delle opere temporanee dovranno essere integralmente rimosse precedentemente alla fine della stagione estiva 2016. Quindi c'è una delibera che autorizza la ruota a restare qui fino a gennaio 2017. Mi meraviglia come il segretario generale e il direttore generale del Comune di Pescara abbiano potuto approvare un documento simile, anche perché sicuramente sono a conoscenza che l'Agenzia delle Dogane impone questi termini. Quindi prima della fine della stagione questa ruota andrà rimossa? Secondo noi dovranno iniziare lo smantellamento il giorno domani perché per smontare una ruota così ci vorranno circa 10-15 giorni. Vista che la stagione estiva termina il 21 di settembre, quindi prima di quella data la zona dovrà essere libera. E poco dopo l'intervento del gruppo Pescara Mi Piace, il Via Libera, la ruota panoramica, il Comune annuncia infatti che è stata firmata l'ultima autorizzazione la città può finalmente vivere un'esperienza unica, dice l'assessore comunale al turismo Giacomo Cuzzi, che annuncia una giornata di incassi andrà alle popolazioni colpite dal sisma e spiega si è concluso stamattina con la firma del dirigente della sua, Gaetano Silveri, l'iter autorizzativo e burocratico relativo alla ruota panoramica che finalmente potrà essere messa in funzione nell'area bonificata dell'ex COFA. Si tratta di un cammino lungo, aggiunge Cuzzi, che si chiude positivamente dopo una scrupolosa disanima di tutta la documentazione da parte degli uffici. E nei prossimi giorni Pescara avvierà il taglio degli alberi. La delibera ha colto di sorpresa le associazioni ambientaliste che ritengono immotivata la decisione. Nicoletta Di Francesco, le associazioni ambientaliste si sono radunate questa mattina in via Vespucci per denunciare questo taglio indiscriminato di piante e di alberi che sta conducendo l'amministrazione comunale di Pescara. Una vera e propria strage, l'avete definita? Sì, l'abbiamo definita strage anche perché è stato istituito un tavolo verde, così come lo chiama il sindaco, un clean table, che in realtà non è un tavolo verde. Ci hanno convocato dal 23 per il 26 e ci hanno comunicato di questa relazione di cui noi non sapevamo nulla. Una relazione urgente che in realtà, quando è stata commissionata, non aveva una data di scadenza, di consegna. Quindi l'urgenza non la vediamo. Abbiamo chiesto 15 giorni perché ci hanno avvisato che praticamente a lunedì inizieranno le operazioni. Abbiamo chiesto 15 giorni per visionare il documento e poi eventualmente dare il nostro contributo. Ma ci è stato assolutamente negato. Quindi ieri è stata veramente una presa in giro. Noi ci siamo vergognati di fronte a questa amministrazione che prende in giro cittadini e associazioni volontarie che dispongono di abbastanza di tecnici che potrebbero dare proprio il contributo. Voi ritenete che questi tagli siano inutili e che non siano necessari? Secondo noi i tagli, prima di procedere ai tagli, andrebbe verificato in maniera un po' più approfondita. Perché ci sono pericoli estremi, dicono determinati numeri, mi sembra 325 alberi da tagliare, perché quelli dei via Regione Margherita sono stati già tagliati. e quindi vogliamo verificare perché gli alberi sono indispensabili proprio per la salute pubblica, sia per le polveri sottili, sia per il fatto dell'ossigeno, sia perché attenuano l'isola di calore. Quindi per una città è indispensabile, una città che era detta giardino, quindi è assurdo procedere così senza sanare il più possibile, e eventualmente intervenire con altri metodi. Non è detto che il taglio sia l'ultima soluzione. E tra gli appuntamenti invece si è svolta ieri sera a Loreto Aprutino la prima edizione del premio giornalistico Antonio Recanati, il collega di Vestina News, prematuramente scomparso all'età di 55 anni. Tanti volti noti dell'emittenza locale premiati nel corso della manifestazione. Ascoltiamo il ricordo di alcuni di loro in questo servizio. Con un minuto di silenzio in memoria delle vittime del terremoto si è aperto ieri a Loreto Aprutino la prima edizione del premio giornalistico Antonio Recanati, dedicato al collega scomparso prematuramente lo scorso 15 marzo. L'elegante centro dell'area Vestina, patria dell'olio, sta dedicando tre giorni, fino a domani 28 agosto, al giornalista Amico di Tutti con un evento unico denominato Sbicchierando nel borgo in memoria di Antonio Recanati. L'iniziativa si deve a Vestina Web TV. La giuria, composta dai componenti Vestina News, ha designato quale vincitore del premio per il settore ambiente ed agricoltura Pasquale Trita Pepe, Agricoltura Oggi. È una personalità meravigliosa, personaggio che resterà, e questa non è retorica, è verità, lo porto qui, nel cuore. Per lo sport Enrico Rocchi, TV6. Ma è il ricordo bello di Antonio come persona, perché è difficile trovare oggi una figura così umile. Per la medicina, Paolo Cassignani. Antonio è stato un collega importante in tanti settori dell'informazione abruzzese. e alla carriera all'oretese verace Franco Farias, ex segretario del sindacato, giornalisti abruzzesi e pensionato RAI. Antonio Recanati è stato una delle poche persone che si faceva volere bene. Poi con lui si è cementata una grande amicizia. Ma ci vedevamo spesso allo stadio, perché mio figlio ha giocato per 4-5 anni con l'Auretum Gal. Sì, sì. E lui veniva da me, si stava vicino a me, facevamo il tifo insieme. Io lo devo ringraziare per la sua pulizia morana, la sua personalità e per il bene che ha voluto a mio figlio. Nell'ambito della undicesima edizione della Torre del Bardo, il Parco Villa Sabucchi di Pescara ospiterà domani, 28 e il 29 agosto, lo Shakespeare Live, curato da regista pescarese William Zola. Il servizio è di Paolo Renzetti. È ormai un appuntamento fisso di fine estate a Pescara. William Zola, parliamo dell'undicesima edizione della Torre del Bardo e di questa manifestazione che vuole onorare e ricordare ovviamente William Shakespeare. Sì, hai detto benissimo. È l'undicesima edizione della Torre del Bardo, nella splendido scenario di Villa Sabucchi. Quest'anno abbiamo scelto proprio un omaggio, due serate, 28 e 29 agosto, dedicata al genio drammaturgico di William Shakespeare, con tutta una serie di scheggi, scene che a me è delle sue opere principali, con una brevissima introduzione che riguarderà alcuni aspetti della personalità e della drammaturgia di Shakespeare, la sua contemporaneità, i personaggi femminili di Shakespeare e Shakespeare attraverso la pittura con il professor Giovanni Benedicenti. Quindi un appuntamento interessantissimo, con un cast molto particolare, perché è un mix fra esperienza e giovinezza, nel senso di debuttanti, e abbiamo scelto questa formula perché mi sembra che ripercorrendo un po' la peculiarità di età dell'Isabettiano, erano queste un po' le sue maggiori componenti. Quindi lo scenario si presterà naturalmente a creare questo clima bellissimo, onirico, che darà affascinazione a questa pièce e aspettiamo, insomma, il nostro pubblico che è consolidato e faremo anche ovviamente un pensiero rivolto anche al dramma che stiamo vivendo in questo momento in Italia per quanto riguarda questa maledittissima storia del terremoto, ma la drammaturgia di Shakespeare che si sottolinea appunto con la fragilità dell'essere umano su questa terra si presta a qualche riflessione importante. Passiamo alla pagina sportiva, dopo la bella prova col Napoli, il Pescara cerca conferme nella prima trasferta stagionale al Mappei Stadium di Reggio Emilia, però il Delfino sfiderà una delle squadre più in forma del momento, il Sassuolo del Pescarese ed ex Biancazzurro Eusebio di Francesco. Per il Pescara sarà un altro esamone. Domani sera al Mappei Stadium di Reggio Emilia e Biancazzurri sfideranno il Sassuolo, squadra che, se non fosse per una tradizione calcistica ancora da costruire, potrebbe essere annoverata tra le big del campionato, perché il club emiliano del Patrons Quincy ha appena vissuto una tappa fondamentale della sua ascesa, guadagnando l'accesso al tabellone principale dell'Europa League dopo il doppio play-off superato contro Lucerna e Stella Rossa, Sassuolo inserito nel gruppo F con Rapid Vienna, Genk e Athletic Bilbao. Sassuolo che ha tanto di Abruzzo, in particolare di Pescara nella sua organizzazione, il tecnico Eusebio di Francesco è il deus ex machina di questo miracolo sportivo che passa per scelte mirate e propensione al bel gioco. Il tecnico, artefice della promozione del Delfino in Serie B nel 2010, ha uno staff pescarese col vice Tomei e i preparatori Vizzoco e Gianmartino. In campo poi l'ex attaccante Biancazzurro Matteo Politano trae in più in forma della squadra e nelle ultime ore l'annuncio dell'acquisizione di un altro ex, Antonino Ragusa, dal Cesena. Pericolo pubblico numero uno è Domenico Berardi, talento da fuoriclasse, l'attaccante ha avuto un avvio di stagione folgorante, sempre in gol nelle partite ufficiali. Il Pescara d'accanto suo cerca conferme nel match del Mapei Stadium, conferme circa il gioco e la personalità mostrate con Napoli. Non ci sarà l'ultimo arrivato Alberto Aquilani per motivi burocratici, mentre sarà della partita Ugo Campagnaro. Dopo i ben noti contrattempi fisici, il difensore argentino è pronto a scendere in campo dal primo minuto per fare coppia con Gionber, Assenti, Coda e Nicastro, che in settimana potrebbe accasarsi a Benevento. Partiranno dalla panchina i due neoarrivati, gli attaccanti Pepe e Baibac, mentre Muric sarà a disposizione dalla terza di campionato con l'Inter dopo la sosta ed è stato dirottato con Fornasier alla primavera per questo weekend. Da verificare se Oddo giocherà dal primo minuto la carta Manai o se riproporrà, come sembra più probabile, lo schieramento che ha mandato in confusione il Napoli con Verra e Benali alle spalle di Caprari. Dirigerà Paolo Tagliavento della sezione di Terni, con cui il Pescara ha quattro vittorie, un pari e due sconfitte, ma l'ultimo precedente risale a dieci anni fa, settembre 2006, Pescara-Bologna 0-1. Per il Sassuolo ci sono quattro vittorie, un pari e una sconfitta. La sfida con Di Francesco deve essere motivo di vanto per Pescara e i pescaresi, Massimo Oddo presenta così il match col Sassuolo. Il tecnico biancazzurro vuole una grande prestazione e punta alla vittoria pur contro un avversario di grande livello. Ascoltiamo nel servizio lo stesso Massimo Oddo e l'allenatore del Sassuolo, Eusebio Di Francesco. Diciamo che adesso ho diverse soluzioni, è ovvio che è scontato che gli ultimi arrivati non possono scendere in campo per ovvi motivi, quindi quelli su cui posso contare comunque dall'inizio sono quelli di domenica scorsa, dopodiché farò le mie valutazioni. E' una squadra che non ha i valori tecnici sicuramente, perché è oggettivo, non può avere i valori tecnici del Napoli, ma questo è una forza, è un punto di forza, nel senso che è una squadra che per me ha fatto cose straordinarie e continua a farle, perché insomma una realtà come il Sassuolo che si qualifica in UEFA vuol dire che tu lavori bene per forza di cose. E' una partita di calcio dove ci sono due squadre che secondo me giocano bene al calcio, il Sassuolo certamente gioca un grande calcio, grande organizzazione, è un allenatore molto bravo e il fatto che ci siano due allenatori di fronte della stessa città penso che debba essere un orgoglio per la città stessa, per l'Abruzzo, ma finisce lì. No, io il pronostico non lo do, io voglio solo grande convinzione da parte della squadra e voglio che ci sia una grande prestazione, perché a seguito di una grande prestazione la possibilità di fare il risultato è maggiore, quindi a me basta la grande prestazione per iniziare. Dopodiché la nostra mentalità non cambia, noi andiamo a giocare a Sassuolo per vincere, non ci sono altri risultati per noi. Il nostro mercato si può considerare chiuso perché siamo completi, poi il mercato riserva sempre sorprese, se l'ultimo giorno ti offrono Ibrahimovic che litiga al Manchester e lui vuole venire qua a tutti i costi ce lo prendiamo, nel senso, i colpi a sorpresa possono sempre capitare, ma che sia chiaro che la rosa è completa e io sono contento di quelli che ho, perché ho detto come prima, ho più di due giocatori a ruolo, più o meno due giocatori per ruolo, quindi siamo a posto così. C'è un po' del mio cuore, anche da ragazzino, perché sono stato sempre tifoso del Pescara, detto questo mi fa piacere rivederli in Serie A, però noi abbiamo l'obiettivo di portare a casa i tre punti, che è la cosa più importante in questo momento. Adesso la volutere oggi, nell'elemento pomeridiano, vedrò un attimino di recuperare un po' tutti quanti, sperando anche di mettere all'interno dei convocati De Frel, che era quello un pochino più preoccupante, per il resto i ragazzi penso che abbiano sbaltito al meglio la trasferta di Belgrado, anche dovuta al grandissimo entusiasmo che c'è in questo momento. Specialmente l'ultimo in cui abbiamo veramente creato tanto e abbiamo portato, secondo me, potremmo anche vincere la partita, detto questo perché io non mi accontento mai, però l'importante era passare il turno. Adesso le risposte le darà il campo, affronteremo una squadra che ha affrontato il Napoli anche in maniera spavalda, propositiva, mi è piaciuto l'atteggiamento del Pescara e ovvio che lo saremo anche noi, cercheremo di fare la partita contro una squadra con giocatori qualitativi e brillanti. I presupposti ci sono, mi auguro che ci divertiamo più noi di loro. Scendiamo in Lega Pro, inizia col piede sbagliato il campionato del Teramo, complice un pessimo secondo tempo. I biancorossi escono sconfitti da Lumezzane per 2-0, esordio deludente del Diavolo. Quindi, servizio. Il Teramo stecca è di brutto l'esordio in campionato. Bastano i primi otto minuti della ripresa al Lumezzane per stordire il Diavolo, piazzando l'1-2 vincente che risulterà risolutivo, inibendo la squadra di Lamberto Zauli non pervenuta nei secondi 45 minuti di gioco. Un crollo inatteso perché nel primo tempo, dopo qualche titubanza, i biancorossi avevano avuto delle chance importanti. Sterilità offensiva e soprattutto la mancanza di filtro a centrocampo sono gli aspetti che più sono risaltati agli occhi. Senza Croce Orlando, Zauli opta per l'undici annunciato con Ilari Mezzala e Carraro a ridosso del duo Petrella-Sanzovini. Il tecnico del Lumezzane-Filippini recupera Furlan tra i pali e sceglie Arrigoni nel luogo di Leonetti. Il Lumezzane predilige a gire di rimessa e trova terreno fertile nella trequarta in biancorossa, ma nel primo quarto d'ora non va oltre qualche sterile conclusione della distanza. Il primo vero brivido per il Teramo al ventisettesimo. Caidi e Rossi non si intendono, il difensore anticipa il portiere. La palla arriva sui piedi di Calamai che tenta la palombella con Rossi fuori dai pali, alta di poco. Il Teramo si sveglia dopo la mezz'ora. Sugli sviluppi del corner di Di Paolo Antonio sponda di Speranza per Dorazio. Stop è gran girata con risposta da par suo di Furlan. È il momento migliore del Teramo. Al trentatresimo cross di Scipioni la palla corretta da Bonomo si impenna e si stampa contro la traversa. Al trentottesimo bacio Terracino imposta e conclude un'azione di rimessa dei padroni di casa, ma la mira non è delle migliori. L'ultima opportunità prima dell'intervallo è per il Teramo, traversone per l'incornata di Carraro al lato. Poteva fare meglio l'ex Pavia. Il buon finale di primo tempo non fa presagire il tracollo bianco-rosso di inizio ripresa. E invece dopo cinque minuti Lumezzane passa in vantaggio con l'azione personale dell'esterno bacio Terracino che infila in velocità Speranza e con un sinistro preciso fa secco in diagonale Rossi. Primo gol in maglia Lumezzane per l'ex Casertana. Neanche il tempo di assorbire il colpo che l'undici bianco-rosso va di nuovo al tappeto all'ottavo. Stavolta bacio Terracino indossa i panni dell'assistman per il taglio di Barbuti il cui sinistro non sembra irresistibile ma Rossi è tutt'altro che impeccabile. 2-0 e gara praticamente agli archivi con la rete dell'attaccante acquistato a titolo definitivo dal Pescara alcune settimane fa. Zauli le tenta tutte inserendo Forte e poi Bulevardi e Fratangelo per Peterman, Ilari e Di Paolo Antonio ma il Teramo non arriva mai pericolosamente dalle parti di Furlan e anzi il venticinquesimo sempre sull'asse Bacio Terracino-Barbuti e il Lumezzane a sfiorare il Tris. Solo nei minuti di recupero il sindaco Sansovini lascia tracce con questo sinistro dalla distanza. Troppo poco per un Teramo deludente e che ora cercherà riscatto tra le mura amiche sabato prossimo col Bassano ma bisognerà fare molto, molto di più. Ed è tutto per oggi, grazie per l'attenzione e buonanotte. Grazie a tutti.